ciao pistellini arricciati scusate per il disordine che oggi la schiava delle pulizie non è venuta oggi vi faremo vedere la nostra umile casa comprata con i punti del benzinaio sentite un po di puzza di merda vicino al bagno non vi preoccupate è solo teo che sganci tirannosauri in eccesso vieni prima eravamo poveri e quindi abitavamo in una casa di soli 70 come si dice 70 metri no no 70 ettari scusate adesso smettete di rompere i coglioni e andate da teo che io mi do mangiare caramelline ciao mtv mo ti porto dentro la camera che mi piace di più e questo è un armadio dentro l'armadio ci ho messo le scarpe perché c'è una collezione delle scarpe che ti dico poco ferma ti sembro mille piedi queste di solito mi metto panna spacciata all'angoletto qua vicino almeno faccio brutte figure con i clienti queste ho comprate purtroppo non ho trovato il modello da uomo aspetta queste sono cagliardi guarda eh lo devi faccio vedere ecchi qua queste sono delle scarpe bianche da 2000 euro l'avevo lasciata al salone e mi nipote ci ha disegnato con i posca mortasci sua queste sono del colore mio preferito verde catarro madonna quanto lo amo questa me la so messa alla comunione che ho fatto tipo due anni fa questi se devo essere sincero fanno cagà si fanno cagà questa è tipo una maglietta cagliarda che mi so comprato al mercatino corleone appiccicato sopra questo m'ha comprata la prozia guarda che carino non è vero ci pulisco per terra lo uso come mocio poi ti faccio vedere il pezzo forte chi è con questo ci vado a far tamarro a ai feste dei paesi tipo quando ci sta a nicarci in culo sta roba qua sono più coatto chi è so pronto a aprire lo spettacolo del circo qua è dove guardo i pornazzi in 7k e per 7k non intendo la risoluzione intendo i 7 mila euro che spendo in abbonamenti sui siti sozzi eccoci allora quella in tavolo quella è una sedia questo è il pavimento e questa è una colonna oh sono ricca ma non c'ho manchi i soldi per comprarmi un paro dei pantaloni belli chicchi avete visto un video su youtube o comunque in giro per il web e vorreste il mio doppiaggio coatto è semplice mandatemi il link su instagram in dm vi risponderò e ne potremmo parlare insieme potrebbe diventare il video per il prossimo doppiaggio coatto io vi ricordo che se vediamo su instagram se vediamo sulla piattaforma viola e su tutti gli altri social che vi lascio in descrizione belli chicchi un bacione e buona domenica